Alla domanda che faceva Don Marco, in quale contenitore mettere i prossimi appuntamenti? Adesso noi pensavamo che quest'estate avremo il Consiglio Generale che cercherà di approfondire anche quanto è emerso oggi, perché è una restituzione che come Consiglio Generale stiamo facendo un po' tutta la famiglia, di un cammino in cui tutti sono stati chiamati a pensare e un po' da tutte le parti qualcuno ci ha messo il suo pensiero, nel senso che il cimo, io sono stato anche molto edificato da, mi ricordo benissimo un incontro in Madagascar dove un laico ha preso la parola alla fine e dice è la prima volta che qualcuno mi chiede cosa lo spirito mi suggerisce di dire, per dire dare la dignità di dare parola, ecco questo che mi richiama un po' quello che diceva Marco, una modalità spirituale che non si identifica col cimo, si identifica con un percorso, ecco con che percorso? Dare dignità all'unicità di ognuno, ecco io in questo percorso sono molto stupito perché ci stiamo aprendo a cose non previste, mi sembra che ci dobbiamo sempre vigilare, però mi sembra che ci stiamo aprendo a cose non previste, una delle cose non previste è fare spazio a quell'unicità di ognuno e mettere in condizione ognuno di portare il proprio contributo della sua esperienza spirituale, che non vuol dire che va idolatrata, che però questo è un processo che è quello del concilio Vaticano II, quando dice la dignità della coscienza, mettere ognuno in condizione di assumersi la responsabilità della propria coscienza, certo che la coscienza va educata, non sto banalizzandolo, ecco però, e questo mi sembra che la casa, e non a caso abbiamo anche richiamato il fatto che nelle Costituzioni c'è quell'aspetto che dice la casa della carità deve aiutare ognuno a scoprire la propria vocazione, ecco forse è questo uno degli attualizzazioni, del dire come la casa della carità aiuta ognuno a scoprire l'unicità della propria vocazione e a porsi con responsabilità di fronte alla propria coscienza, questo mi sembra un processo molto liberante e anche molto, che fa circolare, ecco, il regno di Dio, ecco, quindi in questo senso, ecco, quindi faremo, scusa, adesso ritorno alla tua domanda, faremo questo momento, faremo il nome di grazia, appunto cercheremo ad agosto di avere questo momento, dal 3 al 6 agosto, dopodiché faremo dei momenti in cui ci incontreremo, appunto, troveremo, capiremo se con questa modalità o modalità più territoriali, non abbiamo ancora, quindi se ci sono dei contributi su questo, benvenga, appunto da settembre, il cammino del cimo di per sé dovrebbe guardare alla luce del nome di grazia quali scelte fare nelle singole case per rendere più manifestabile il nome di grazia, quindi il prossimo anno dovrebbe essere questo, accogliendo il nome di grazia quali scelte ogni casa della carità deve maturare, appunto, per avere questa radice comune nella diversità dei territori dove ognuno di noi si trova, ecco, quindi questo e dopo il cammino, appunto, questo penso che richiamo che il doppio passaggio siamo consapevoli che da una parte c'è un cammino che ci chiede di stare anche in certe difficoltà, perché accompagnare dei processi vuol dire stare anche dentro a certe tensioni, quindi su questo ecco perché dobbiamo imparare a gioire anche delle cose belle che accadono durante il cammino, perché non è che gioiamo della meta, noi gioiamo dell'anticipo della meta nel cammino, non è gustare il senso del cammino, poi ci sono anche delle urgenze, ecco, su questo questo invece chiede un altro ritmo di passo, un altro passo, ecco, le urgenze vanno, e le urgenze sono quando sono messe a rischio il prendersi cura delle persone, ecco, lì c'è una situazione di urgenza, quindi dovremo distinguere quei cammini che vanno accompagnati, che chiedono tempo e chiedono sempre una rinnovata disponibilità dalle urgenze, le urgenze non devono diventare i percorsi, i percorsi non devono annebbiare la vista sull'urgenza, ecco, questo mi sembra che, almeno noi ci stiamo dando questo criterio, ecco, come modo di, dopodiché lascio la parola al Vescovo Giacomo. Soltanto alcune così suggestioni ascoltando, mi è venuto in mente un midrash sulla torre di Babele, dove si racconta che era tale il desiderio di portare a compimento l'opera che non c'era nessuna realtà che potesse in qualche modo ritardare la costruzione, tutti erano impegnati affinché l'opera, la torre fosse costruita. Allora non c'era momento di pausa, se qualcuno cadeva dalla torre non lo si seppelliva perché non c'era tempo e le donne che partorivano, partorivano lungo la scala per evitare appunto di perdere tempo e così via. Questo mi ha fatto pensare, come tante volte nella Chiesa, l'opera diventi più importante della persona, cioè che, e pensiamo a tante istituzioni religiose, a tanti ordini che sono nati, specialmente nel 1800 e anche prima, in ordine a colmare delle lacune che c'erano nella società civile, l'assistenza, l'educazione, no, tante sono state le istituzioni che sono nate in ordine a questo. L'opera va mantenuta anche quando la situazione esterna cambia, anche quando le forze diminuiscono. E allora avere questa idealità originaria come qualcosa di fisso e irreformabile distrugge la vita di coloro che sono chiamati a portare avanti l'opera. Bisogna che la persona rimanga sempre più importante dell'opera. Altrimenti noi entriamo dentro a uno scafandro, dentro a un idealismo che distrugge. c'è, vi ricordate, quel quadro che ritrae la rivoluzione francese che avanza, penso sia di Lacroix, no? De Lacroix. E su che cosa avanza? La libertà, la fraternità e l'uguaglianza sui cadaveri. In nome di idealità grandi, disastri, tante volte, e a volte penso che nella nostra visione noi dobbiamo tenere conto di questo, che non è un tradimento delle origini, ma è ciò che lo Spirito dice alla Chiesa, che coloro che sono dentro alle nostre comunità parrocchiali, nelle parrocchie, eccetera, abbiano una consapevolezza che le persone rimangono sempre più importanti. Una volta celebrai una messa, un istituto di suore, subito dopo una di queste è morta. Dopo la comunione. Ce lo dici adesso, in questo momento? No, allora viene la consorella e mi dice, sa donna, è morta, sora Carlotta. Ho detto, ma mi dispiace, ma era proprio quella che mi aiutava in cucina. Ho detto, mi dispiace ancora di più. Voglio dire, però, la diceva con un'ingenuità che era disarmante, la veniva abbracciata, però, come dire, adesso mi tocca fare anche il suo lavoro, perché non c'è nessuno, come quando muore un parroco, quando ero vicario generale e io telefonavo al parroco vicino, non mi vorrei mica dare anche le sue parrocchie, guarda che sono gratis. Cioè, è questo il punto che noi dobbiamo, quando parlo di questo processo, pensiamo alla grande tradizione francescana. Non sono ancora finite le riforme di ciò che San Francesco ha inaugurato. E vi ricordate la celebre storia dove i tre grandi superiori dell'ordine francescano commissionano lo stesso artista un quadro di San Francesco. E quando finalmente il quadro è pronto, i tre superiori generali, conventuali, i minori, i cappuccini vanno a vedere, c'è San Francesco a letto. E i tre abiti, no, su un attaccapanni. Allora i tre generali dicono, ma cos'è sta storia? Noi dovevamo fare un conventuale. Ma guarda, dice, quando si alza da letto, sceglierà lui l'abito. E sempre, no, anche di questo secolo, un'altra riforma perché vogliamo ritornare alle origini, perché i minori, perché i cappuccini, perché i conventuali hanno tradito, o hanno, diciamo, ridotto, non tradito, hanno adattato al mondo. E allora un'altra riforma, i francescani che vivono nei container, e poi ci sono i carmelitani. Voi sapete che dentro ai carmelitani ci fu una battaglia all'ultimo sangue, tanto che hanno due, diciamo così, regole, una cosa unica. Tanto, no? Gli scalzati o meno, quelli di Santa Teresa. Insomma, sempre noi siamo tentati lì, sulla radicalità che con l'andare del tempo pensiamo di perdere. E ci dividiamo su questo. Su un carisma e dicendo no. Quando parlavo della prudenza, non è che voglio rispondere, ma si racconta che durante un'elezione pontificare del Papa i cardinali avevano, o uno di questi che era normale, ha scritto «Se sei dotto, insegnaci. Se sei santo, prega per noi. Se sei prudente, governaci». Cosa vuol dire? Capitolo 14 di Luca. Una folla numerosa andava con lui. Egli si voltò e disse «Se uno viene a me e non mi ama più di quanto ami suo padre, la moglie, i figli, i fratelli, la sorella e perfino la propria vita non può essere mio discepolo. Colui che non porta la propria croce non può essere mio discepolo». Parole profetiche? Parole profetiche? Sei d'accordo? Siamo della profezia qui? Bene. Chi di voi volendo costruire una torre non si è deprima a calcolarne la spesa e a vedere se hai mezzi per portarla a termine, per vedere che se getta le fondamenta e non è in grado di finire il lavoro, coloro che vedono comincerà a deriderlo. Oppure se uno va in guerra, continua, e viene a sapere con diecimila uomini e viene a sapere che il nemico ne ha ventimila, ma sarà meglio perdonarlo il nemico. Se ne è d'accordo? Questo intendo per prudenza, che può diventare il vizio dei vecchi. È vero? Questa è la prudenza. Obiettivo e mezzi. Per giungere. Se non hai questo, sarai deriso, ma in senso negativo, perché il nemico è amico di ogni esagerazione. E ti porta alla sconfitta, distruggendo l'intuizione, che era buona, ma non proporzionata a quel momento che tu. Questo si può anche chiamare discernimento, ma un bravo padre spirituale, un bravo padre, sa dire a un figlio questo è un bene, ma non è un bene per te adesso, perché non sei ingrato. È questa fatica, no? Io apprezzo molto il cammino che è stato fatto. L'intuizione fondamentale sono i tre pani. Questa è l'intuizione fondamentale. Dove sta il problema? Non tanto sulla parola di Dio e sull'Eucalistia, ma sulle modalità con le quali i poveri dovranno essere amati, serviti. È su questo che a mio modo di vedere ci deve essere una dottilità, un adattamento, una capacità. è chiaro che quando si parla di differenziazione non è che uno dice io volevo fare il monaco benedettino o la monaca benedettina e sono venuto nel caso delle carità. Ecco, c'è un problema, perché è diverso. Ma su questa fondamentale intuizione avere la capacità non di, cioè non, questo è il mio pensiero, non di dire questo è un modello originario e qualunque cosa accada in qualunque latitudine, in qualunque longitudine, in qualunque situazione con forze che abbiamo e che diminuiscono, sarà applicato. Ma questo sarebbe, a mio modo di vedere, un tradimento di una carità che invece ha la capacità di dire cosa il Signore ci sta dicendo oggi, come un giorno parlò a Don Mario e Don Mario in quel contesto ha realizzato. Ma il contesto è cambiato, le forze sono cambiate, le povertà sono aumentate, sono diverse. Come aiutarci a entrare, a rimanere fedeli a questo senza mettere uno scafandro che di fatto ci fa morire tutti sulla torre di Mavele. Questo mi sentivo di dire, il modello non è solo il Concilio Vaticano II, che giustamente, ma è il Concilio di Gerusalemme. Andiamo un po' più indietro. Cioè, dove alla fine si tratta di capire. Si diventava credenti con la circoncisione e con l'osservanta della legge e delle prescrizioni alimentari. Si è sempre fatto così. Perché Mosè viene annunciato in tutte le chiese. Quindi, il battesimo nel nome di Gesù Cristo, ah, c'è anche questo. Sì, questo è il termine di un percorso. Si discute insieme e poi si va, dice l'Apostolo, io mi auguro che questo cammino che avete intrepreso possa concludersi come il Concilio di Gerusalemme. Cioè, con questa espressione lo Spirito Santo e noi abbiamo deciso. Questo, secondo me, deve essere l'obiettivo e la visione. Lo Spirito Santo e noi abbiamo deciso. Allora sarà una benedizione per voi e per la nostra chiesa di Reggio Emilia Guastalla e anche per quelle limitrofe. grazie. 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 Grazie di questo intervento e per far rincorniciarlo così, per dare più valore a quello che hai detto e con questo cammino non lo stiamo facendo per sfizio. ecco, noi con questo cammino siamo consapevoli che generiamo delle sofferenze, però anche il sistema passato ha generato delle sofferenze. Ecco, credo che questo dobbiamo essere consapevoli. Non è un osfizio, è un atto di responsabilità di fronte anche a delle sofferenze che il sistema ha potuto provocare, quindi in questo senso però per stare in centro di quello che hai detto. Bene, allora adesso il brando non arriva, però dovrebbe arrivare adesso... Ah, perché volete che qualcuno faccia un miracolo? Facciamo un canto però, facciamo un canto di ringraziamento. Grazie. Grazie. Magnifica. 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 Domino Magnificato, Magnificato, Magnificata di Mamea.